L'uomo sta infastidendo la donna perché russa fortissimo e lei non riesce a dormire. La donna a destra sta infastidendo l'altra donna con il suo cantare terribile. La persona all'altro capo del telefono sta infastidendo la donna. Il ragazzo sta rispondendo all'insegnante. L'uomo sta rispondendo al telefono. La giovane donna si sta scusando con il suo capo. È dispiaciuta di essere arrivata in ritardo. L'uomo si sta scusando con la moglie. Il ragazzo si sta scusando con la sua ragazza. Perdonami, ti prego. Il bambino sta facendo abbraccio di ferro con suo padre. Il bibliotecario sta sistemando i libri sugli scaffali. La donna sta sistemando il cibo nel frigorifero. Il farmacista sta sistemando le medicine sugli scaffali. Il poliziotto sta arrestando la donna e la sta ammanettando. Il poliziotto sta arrestando un uomo per eccesso di velocità. Il treno sta arrivando al binario o alla stazione. Il battello sta arrivando al porto. La moglie sta chiedendo soldi a suo marito. La figlia sta chiedendo soldi a suo padre. L'uomo sta chiedendo alla donna di sposarlo. L'uomo chiede alla donna di sposarlo. L'uomo sta chiedendo aiuto. L'uomo sta chiedendo indicazioni. La donna sta chiedendo alla donna di stare zitta. L'uomo sta chiedendo aiuto a Dio. L'uomo sta appuntando il suo distintivo sulla camicia. La piovra gigante sta attaccando la città. Anche Babbo Natale sta attaccando la città. L'impiegato sta aggredendo il suo capo perché è stato licenziato. Il virus sta attaccando il computer. L'aquila sta attaccando il pesce. Il giovane sta trovando l'equilibrio sulla corda sopra la città. Il bambino sta trovando l'equilibrio sulla trave. Il ginnasta sta trovando l'equilibrio su una gamba sola. Il senzatetto sta chiedendo le lemosina per strada. La donna sta implorando il vigile urbano di non farle la multa. L'uomo sta implorando la moglie di perdonarlo. La donna sta mordendo la mela. La donna si sta mangiando le unghie. Lo squallo sta mordendo la barca. Il dito dell'uomo sta sanguinando. La gamba del ragazzo sta sanguinando. Il naso della donna sta sanguinando. Il sacerdote sta benedicendo il poliziotto. La luce sta abbagliando le persone in macchina. L'acqua sta bollendo nella pentola. Il bollitore sta bollendo l'acqua. L'insegnante sta annoiando gli studenti. Il film sta annoiando la gente al cinema. La tennista sta facendo rimbalzare la pallina da tennis sulla racchetta da tennis. La donna sta facendo rimbalzare su e giù sul trampolino. La palla da basket sta rimbalzando. La palla da basket sta rimbalzando. La macchina sta frenando. Il semaforo rosso è acceso sul retro della macchina. Lo studente di karate sta rompendo i mattoni con le mani. L'uomo sta rompendo la matita. La relazione si sta interrompendo. L'uomo sta rompendo il guscio d'uovo. Il prigioniero si sta liberando dalle manette. L'uomo sta scassinando la macchina. La cameriera sta portando un caffè alla donna. La donna si sta lavando i denti con lo spazzolino da denti. L'uomo si sta spazzolando i capelli davanti allo specchio. L'uomo sta comprando una macchina nuova. L'uomo sta comprando qualcosa online. La donna sta comprando un biglietto per l'autobus. La donna sta chiamando un'ambulanza. L'uomo sta chiamando un taxi. La donna sta chiedendo aiuto. La sua macchina si è rotta. L'infermiera si sta occupando del suo paziente. L'infermiera si prende cura del suo paziente. L'infermiera si sta occupando del suo paziente. Babbo Natale sta portando un sacco pieno di regali. L'uomo sta accompagnando la donna sulla spiaggia. L'uomo sta accompagnando la donna sulla spiaggia. L'uomo sta portando un elefante sulla schiena. Le donne stanno trasportando un sacco della spesa. Il portiere sta afferrando la palla. L'uomo sta cambiando il canale televisivo con il telecomando. La donna sta cambiando la lampadina. La donna sta cambiando la gomma della macchina. L'uomo rosso sta cambiando le squadre. L'uomo sta cambiando le batterie del telecomando. La donna sta cambiando le scarpe. La donna sta caricando il suo iPad all'aeroporto. La donna sta caricando l'auto. L'uomo sta caricando il suo cellulare. Il poliziotto sta inseguendo il ladro. Il mostro verte sta inseguendo l'uomo. Il cuoco sta inseguendo il tacchino. Il gatto sta inseguendo il topo. L'uomo sta abbarando a carte. Il ragazzo sta copiando all'esame. Il ragazzo sta tradendo la sua ragazza. L'uomo d'affari sta controllando le sue e-mail. La donna sta controllando la sua posta. La donna sta controllando il suo peso. L'uomo controlla la ricevuta. La donna sta masticando la gomma da masticare. Il cane sta mordendo l'osso. La donna si sta soffocando con il cibo. La donna sta trittando le cipolle. L'uomo sta tagliando i tronchi. La donna sta tagliando le verdure. L'uomo sta pulendo gli interni della macchina. La donna delle pulizie sta pulendo il bagno. La cameriera sta pulendo la camera dal letto. La donna sta pulendo il pavimento. La donna si sta pettinando i suoi lunghi capelli neri davanti allo specchio. L'infermiera sta rasserenando la paziente perché ha dolori allo stomaco. Il dottore sta confortando il suo paziente. Il ragazzo sta consolando il suo migliore amico. La donna sta comandando al cane di sedersi. L'uomo si sta lamentando del cibo. La donna si sta lamentando con l'uomo di qualcosa, ma lui non ascolta. La donna si sta concentrando per colpire il bersaglio. Lo studente si sta concentrando intensamente in biblioteca. I chirurghi si stanno concentrando sul paziente. Lo chef sta cucinando bistecca e pomodori alla griglia. Lo chef sta cucinando qualcosa in cucina. Lo chef sta cucinando salsicce in padella. Il ragazzo sta copiando le risposte da un bigliettino. Lo studente a sinistra sta copiando il lavoro dell'altro studente. Sta barando. La donna sta fotocopiando dei documenti. La donna sta copiando qualcosa dal suo schermo. L'insegnante sta correggendo i compiti dell'alunno. L'uomo sta tossendo e la donna cerca di stare lontana da lui. L'uomo sta tossendo e prova dolore al petto. L'uomo sta contando quanti soldi ha nel portafoglio. Il ragazzo sta contando fino a 20. Gioca a nascondino. L'uomo sta contando quante provviste ci sono nel magazzino. L'uomo sta contando i soldi per pagare la benzina. L'uomo sta rompendo l'uovo nella ciotola. Il soldato sta strisciando per terra. Il ragazzo sta strisciando nel tunnel. La donna sta piangendo. Ha appena visto quanto pesa. La figlia sta piangendo. Il figlio sta ridendo. La madre è stressata. La donna sta piangendo durante una seduta di terapia di gruppo. La strada sta corvando a sinistra. L'uomo sta tagliando la pagnotta con un coltello. Il parrucchiere sta tagliando i capelli della donna con un paio di forbici. La donna si sta tagliando le unghie. L'uomo sta tagliando l'erba. Il ciclista sta pedalando lungo la strada. Lo scimpanzé sta ballando. La donna sta ballando con il suo compagno. La sposa sta ballando con lo sposo. La donna sta decidendo se risparmiare o spendere i soldi. L'uomo sta decidendo quale porta scegliere. La porta di sinistra o la porta di destra. La donna sta decidendo cosa indossare stasera. La coppia sta decidendo cosa ordinare dal menù. La donna sta decidendo di che colore dipingere il muro. L'uomo sta decidendo da che parte andare. Il tornado sta distruggendo la casa. Il mostro sta distruggendo la città. Il mostro sta distruggendo la città. L'uomo sta distruggendo il documento riservato. Il contadino sta scavando nel terreno con una pala. Il prigioniero sta scavando una buca nel terreno. Cerca di scappare. La macchina escavatrice sta scavando una buca nel terreno. L'uomo sta scavando la neve. Il pupazzo di neve sta scomparendo. I soldi stanno scomparendo. La moneta sta scomparendo. Il padre sta trascinando via il figlio dal portatile. La donna sta trascinando l'uomo nei negozi. La sposa sta trascinando lo sposo al matrimonio. Il gatto sta sognando un pesce. L'uomo d'affari sta sognando di andare in vacanza al mare. La donna sta vestendo il pupazzo di neve. La donna sta condendo l'insalata con l'olio d'oliva. L'uomo si sta mettendo i jeans. Si sta vestendo. L'uomo sta bevendo una tazza di caffè dalla tazza grande. La donna sta bevendo una bottiglia d'acqua. Il rubinetto sta gocciolando. Il cane sta guidando un furgone. L'uomo sta guidando, mandando messaggi e investendo un pedone. Il ragazzo sta guidando la macchina alla sala giochi. L'uomo sta facendo cadere la palla rossa. La madre sta portando il figlio all'università e il figlio la sta salutando con la mano. L'uomo sta gettando la spazzatura nel cestino. Il ragazzo sta annegando nel bicchiere d'acqua. La donna si sta asciugando i capelli in camera da letto. La donna sta asciugando i piatti. La donna si sta asciugando il viso con un asciugamano. I vestiti si stanno asciugando sul termosifone. L'uomo sta spolverando il tavolo con uno spolverino giallo. L'uomo sta spolverando la televisione. Lo chef sta mangiando un pezzo di torta. La donna sta mangiando popcorn al cinema. Il topo sta mangiando del formaggio. La donna non ha soldi per pagare la spesa. La cosa è imbarazzante. Il camion sta raccogliendo e svuotando la spazzatura. La donna sta svuotando la lavastoviglie. Il giardiniere sta svuotando la carriola. L'uomo sta svuotando il portafogli. La donna d'affari sta entrando in casa. L'ospite sta entrando in casa. La donna sta entrando nell'ascensore. La donna sta entrando nel treno. Il dottore sta intrattenendo il bambino in ospedale. Il dottore sta ancora intrattenendo il bambino in ospedale. Il bambino ha paura. Il piccione sta scappando dalla gabbia. Il prigioniero sta scappando dalla prigione. L'uomo sta scappando dall'ufficio. Il dentista sta controllando i denti del bambino. Il medico sta visitando il torace del paziente. L'agente dell'assicurazione sta valutando i danni alla macchina. La donna sta aspettando un bambino. Il bambino sta ascoltando per vedere se sente il bambino. Una macchina con i palloncini sta cadendo dal cielo. Il cowboy sta cadendo da cavallo. L'uomo sta cadendo dal cielo. L'uomo sta cadendo dal cielo. L'uomo sta cadendo dalla scala. L'uomo si sta allacciando la cintura di sicurezza. La madre sta allacciando la cintura di sicurezza della figlia nel retro della macchina. Il cane sta prendendo il bastone dall'acqua. La donna sta archiviando il documento nello schedario. La donna sta archiviando il documento nello schedario. Questo non è archiviare. Questo è un casino. La donna si sta limando le unghie. Il regista sta filmando il finale del film. La donna sta riempiendo il bicchiere d'acqua. L'uomo sta facendo il pieno di benzina. L'uomo sta riempiendo il secchio di sabbia. L'uomo sta compilando il modulo. Il capo sta licenziando uno dei suoi dipendenti. L'uomo sta sparando con un fucile. L'uomo sta sparando con un fucile al bersaglio. Il tuttofare sta aggiustando la lavatrice. L'uomo sta aggiustando il computer. La donna sta galleggiando nell'acqua. L'astronauta sta fluttuando nello spazio. Il bagno si sta allagando. L'aero sta volando fra tuoni e tempeste di fulmini. L'uomo sta facendo volare un aquilone. Il maiale sta volando sopra le nuvole. Il supereroe sta volando nel cielo. Il gabbiano sta volando nel cielo. Il ragazzino sta seguendo la mamma con il suo camion. L'autista sta seguendo la macchina rossa. I tre re magi stanno seguendo la stella. Il cuoco sta friggendo un uovo. Il cuoco sta friggendo la pancetta. La mamma sta dando alla figlia una medicina per la tosse. La donna ti sta dando un bicchiere d'acqua e una pastiglia. Il dottore ti sta dando la tua ricetta. L'uomo sta dando i soldi al meccanico. L'uomo sta facendo cavalluccio con la donna. L'uomo dà dei soldi in beneficenza. Il dottore sta dando consigli al suo paziente. Il dottore ti sta dando dei buoni consigli. La sfera di cristallo della chiromante sta brillando e lei ti preannuncia il tuo futuro. L'uomo sta afferrando i capelli della donna. L'uomo si sta stringendo la pancia. La donna sta grattugiando il formaggio con la grattugia. Il bambino sta diventando un uomo. Il bambino sta crescendo. La donna sta indovinando chi c'è dietro di lei. La donna sta indovinando cosa c'è dentro il regalo. Il cane guida sta conducendo il cieco. Il navigatore satellitare sta guidando l'autista dove vuole andare. L'uomo sta penzolando dalla corda. Il ragazzo sta penzolando dall'albero. L'uomo sta pendolando dal bordo. La donna sta appendendo il quadro. Il giocatore di calcio sta colpendo di testa il pallone. La madre sta aiutando il figlio a stare in piedi e a camminare. La donna sta aiutando la donna disabile a salire in macchina. Il ragazzo sta aiutando la vecchia ad attraversare la strada. La ragazza sta aiutando il ragazzo a rialzarsi. L'uomo sta aiutando il padre a salire le scale. L'uomo si sta nascondendo dietro il divano. La donna si sta nascondendo dietro la tenda. Un mostro si sta nascondendo sotto il letto. L'uomo sta nascondendo un regalo dietro la schiena. La donna sta tenendo in mano un biglietto della lotteria vincente. L'hostess sta reggendo un vassoio. La coppia si sta tenendo per mano. La donna sta tenendo in mano un calzino puzzolente. Il ragazzo sta trattenendo il respiro sotto l'acqua. La donna sta saltando su una gamba sola. Il padre sta abbracciando il suo bambino. La donna sta abbracciando il suo cucciolo. L'uomo sta abbracciando un albero. La ragazza sta abbracciando il pianeta Terra. La donna sta ignorando la persona dall'altra parte del telefono. Il bambino sta ignorando la madre. Non riesco a sentirti. L'uomo sta ignorando la sua ragazza. Vuole guardare il calcio. Lei no. La figlia sta ignorando la madre. L'SMS è più importante. L'impiegato sta ignorando il suo capo. La donna sta iniettando la mela delle vitamine. La donna d'affari si sta presentando a te. L'uomo si sta presentando al gruppo. La polizia sta indagando sulla scena del crimine. La guardia di sicurezza sta indagando su qualcosa con la sua torcia. Il dottore ti sta invitando a sederti. La donna ti sta invitando a sederti. La donna ti sta invitando a entrare in casa sua. L'uomo si sta grattando il braccio. La giovane ragazza sta facendo jogging nel parco. Il giocogliere sta giocando con le palline. La donna sta affrontando le sue responsabilità. L'atleta o il saltatore sta saltando gli ostacoli. Il cavallo sta saltando oltre il recinto. L'uomo sta saltando la corda. I paracadutisti stanno saltando dall'aereo. La donna sta facendo bungee jumping. L'impiegato sta prendendo a calci nel sedere i capi. Il calciatore sta calciando il pallone. Il ragazzo sta baciando il cane. L'uomo sta baciando il trofeo. L'uomo sta baciando la mano della donna. L'uomo si sta inginocchiando nella foresta chiedendo aiuto a Dio. Il fotografo si sta inginocchiando per scattare una foto. Il calciatore si sta inginocchiando per festeggiare il gol. Il ragazzo si sta inginocchiando per pregare. La donna sta lavorando a maglia. Il servizio in camera sta bussando alla porta. L'uomo sta bussando alla porta. L'aereo sta atterrando sulla pista. L'aquila sta atterrando sulla spiaggia. L'ufo sta atterrando in campagna. L'elicottero sta atterrando. Il cavallo sta ridendo. Il ragazzo sta ridendo. L'adolescente sta imparando a guidare l'auto. Il bambino sta imparando ad andare in bicicletta. Il bambino sta imparando a camminare. La donna sta imparando una lingua straniera. Il bambino sta imparando a nuotare. L'uomo sta uscendo dal cerchio. L'uomo sta uscendo di casa con una valigia. La navetta spaziale sta lasciando il pianeta Terra. L'uomo sta scendendo dal treno. Il cane sta leccando il gelato. La donna sta leccando il piatto. Il cane sta leccando la ciotola. L'uomo sta leccando la busta. Il padre sta sollevando il figlio in aria. Il bodybuilder sta sollevando i pesi. La gru sta sollevando una cassa. L'uomo sta sollevando una cassa. La formica sta sollevando il pianeta Terra. Il dottore sta sentendo il torace del paziente. Il gatto sta ascoltando la musica. La pancia sta ascoltando la musica. L'uomo sta ascoltando qualcuno al telefono. Gli studenti stanno ascoltando il professore. La donna sta aurigliando dietro il muro. L'autista sta caricando il camion al magazzino per portare la merce al supermercato. L'uomo sta mettendo la chiave nella serratura e chiudendo la porta chiave. L'uomo sta guardando la città sullo sfondo. Il cane sta cercando qualcosa da mangiare nel frigorifero. L'uomo sta guardando l'ora. La donna si sta guardando allo specchio. L'uomo sta guardando in alto. Il ragazzo sta guardando dall'albero. Il cameraman sta guardando giù dalla cima di un grattacielo. L'uomo sta guardando giù dal bordo della scogliera. Il ragazzo sta guardando attraverso il buco della serratura. L'uomo sta guardando fuori dalla finestra. La donna sta cercando i soldi nella borsetta. Il golfista sta cercando la sua pallina da golf. La donna sta cercando un lavoro. L'uomo sta cercando i soldi dietro il divano. La donna sta cercando un libro da leggere. La coppia sta cercando un ristorante dove mangiare. La donna sta perdendo peso. La donna sta perdendo i capelli. La loro squadra di calcio preferita sta perdendo. Il ragazzo si sta sdraiando sul divano. La donna si sta sdraiando su una nuvola bianca a leggere un libro. La donna si sta sdraiando sul letto e sta giocando con il suo smartphone. Il ciclista si sta sdraiando a terra. È caduto dalla bicicletta. La donna si sta misurando il girovita. Il pupazzo di neve si sta sciogliendo. Il pianeta Terra si sta sciogliendo. Il gelato si sta sciogliendo al sole. Il burro si sta sciogliendo in padella. La famiglia si sta trasferendo. La famiglia si sta trasferendo nella nuova casa. L'uomo ti sta offrendo del denaro. L'uomo ti sta offrendo qualcosa da mangiare. La donna ti sta offrendo dei dolci. L'uomo sta chiedendo alla donna di sposarlo. Il ragazzo sta aprendo il suo regalo. L'uomo sta aprendo il suo regalo. L'uomo sta aprendo la lattina. La donna sta aprendo la porta del frigorifero. L'uomo sta aprendo la bottiglia d'acqua con la mano. La donna sta aprendo il suo regalo. La donna sta aprendo la lettera. L'uomo sta aprendo la bocca. La donna sta aprendo il cassetto. La donna sta ordinando la pizza. La coppia sta ordinando qualcosa dal menù. La donna sta ordinando all'uomo di fare qualcosa. L'uomo sta ordinando medicine online con la sua carta di credito. Il gabinetto sta traboccando. Il bidone verde sta traboccando. Il bicchiere sta traboccando d'acqua. Il cesto della biancheria sta traboccando di vestiti. Il cestino della spazzatura sta traboccando. Il cestino della spazzatura sta traboccando.